Allora, questi sono fuori di pollo, con aglio e fame, con l'idea, sì, taglio, Eric del futuro, oggetto del futuro, wakana, taglio. Siamo tornati a Ueno, siamo fermati in un locale che fa Gyoza, che sono tipo dei pomodori, che si chiamano Ravio, di carne. Non si veniva la parola Ravio. Non si veniva Ravio. Allora, siamo tornati a Ueno. Siamo tornati a Ueno, Siamo tornati a Ueno, Siamo venuti a mangiare Gyoza, che siamo anche stanchi a preoccupare a non così tanto. E' bello, dai, come ci metterà tanto in getto, la meravigliere. con 100 non è accetto non è accetto e poi è accetto ah e tranquillo staglia ancora un ruolo di guagna stagliosa non da preso bocca ferma non da preso ho già dimenticato che ha rego con una strada con una strada poi mangiare la non 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 a livello di pasta queste del riempimento sono uguali uguali però non ne facciamo noi sarebbero ancora più buoni se posso restare in parte a osaka a casa di wakana la natsuki la mettiamo a fare il takuiyaki si, dapperti non si può essere tanto mosca stelle che non si può andare beh, come fa, vi non ci taglierò noi mignoni come anche l'angeli tutto lo sai quindi già puoi svitò che è tanto pratico non serve trovarli coinvolgi se li coinvolgi si, rispetto a tante altre città secondo me un po' l'abitudine nel senso ho visto tante persone abituate a prenditi, prenditi la cucina, vai in metro, incontri comunque un milione di persone che non calcoli in mezzo al tanto e troppo in mezzo al tanto no, si ma ho visto anche, non so, compagnie storiche una persona se ne va, va a vivere fuori da Tokyo ho andato a fare via hanno un forte legame a Kim che sono messi tutti assieme chiaramente dipende da persona a persona però spesso ho visto questa roba qua mentre magari, si mentre magari fuori, non so, mi è sembrato che già spostandosi in Kansai si cambia tanto Kansai è la regione che ospita Osaka Kyoto, Nara e si capita spesso di vedere, non so stai lì in metro e vedi i ragazzini che si alzano a scherza no? se giocano, sono comunque giapponese sono comunque compotti, raffinati eccetera però so, un po' più passa il termine umani probabilmente sono abituati a meno folla, meno alienazione come dire, non so, da una persona di Milano e una persona di Mon Falcone ma noi che siamo italiani siamo abituati meno persone, meno folla e quindi a cercare di avere un po' di rapporto si ti abitui magari a vivere in una grande città dove hai dei ritmi abbastanza frenetici si, secondo me un po' ti toglie quando hai fatto che più sono in piccoli paesi dovunque vai e più la gente ci parla ma perché nel piccolo paese magari sei abituato a parlarti a... arrivare con una persona nuova per forza la conosci per cui hai un legame un po' forzatamente allora che tipo capo di vento? ok allora adesso mettiamo attorno alla ticino che ci arrivi l'ultima portata e poi andremo a lavorare in camera perché abbiamo un sacco di lavoro di posto video da fare di controllo, di organizzazione delle persone che faremo e andiamo assolutamente a organizzare le prossime giornate perché abbiamo bisogno di allargare il periodo di giorno perché stiamo dormendo tantissime ci devono preparare la salita alla salita del foglio bene, un sacco di persone un sacco di persone un sacco di persone ci aggiorneremo a domani ciao 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 ciao